Buongiorno a tutti, oggi facciamo il problema della donna nella storia, però poi vedremo l'Antico e il Nuovo Testamento, cioè come la donna è sempre stata denigrata e oppressa e come appunto invece la rivelazione arriva a un punto di parità perfetta tra l'uomo e la donna. Il capitolo si chiama La liberazione della donna. Il problema nello status della donna nella società antica deriva da quello più generale, che è quello della violenza che abbiamo già visto precedentemente. La donna è sempre stata oppressa, spesso sottoposta ad abusi e vessazione di ogni tipo, in quanto soggetto debole rispetto all'uomo. Ciò è molto mediocre, ecco, questo istinto dell'uomo che è più forte, come sono misere e mediocri le violenze e la prepotenza. Oltre alla donna la Torah identifica altre categorie come lo straniero, l'orfano, la vedova e altre, bisognose di tutela a motivo della debolezza della loro posizione sociale. La preoccupazione della legge per queste categorie, che troviamo in diversi luoghi, non solo nella Torah, ma anche nei profeti e negli scritti, è evidente. L'essere umano è per sua natura malvagio e prepotente. Genesi 6, 5. Ed è incline a usare la forza come metodo di autoaffermazione. La storia della difficile emancipazione femminile. Oggi in Italia e nella maggior parte dei paesi del mondo si è raggiunta la completa o quasi autonomia dei sessi, per la quale dal medioevo ad oggi le donne hanno dovuto combattere estrenuamente con tutte le loro forze. Nel medioevo infatti le donne non avevano alcuna considerazione, come confermato e ribadito dalla stessa chiesa. Se infatti nel diritto canonico fino a San Tommaso d'Aquino la donna era cosa necessaria all'uomo, con i padri della chiesa essa divenne la porta dell'inferno, ritenuta infedele e volubile ed avente istinto stregonesco. La stessa parola femmina deriva da fe minus, perché considerata incapace di conservare meno la fede. La nascita di una bambina era quindi considerata una disgrazia, provocando nei padri l'angoscia per la dote che le dovrebbero dovuto fornire. L'educazione femminile era trascurata in quanto le bambine dovevano restare chiuse in casa a decenzione dei momenti in cui accompagnavano la madre nella chiesa parrocchiale. Venivano accolte e nutrite e vestite in cattivo modo e non veniva loro lasciato tempo libero, perché l'ozio era ritenuto un cattivo consigliere. Alla giusta età le ragazze avevano due possibilità, ovvero essere portate in convento o essere date in sposa ad un uomo prescelto loro dal padre, uscendo quindi dalla tutela di questo, per passare quindi a quella del coniuge. Bisogna poi sottolineare il fatto che mentre l'adulterio delle donne o i rapporti prematroniali erano puniti o con un'ammenda o spesso con la morte per fuoco, le donne, oltre a poter essere dipuriate perché steriti, dovevano spesso tollerare la presenza di schiavi, amanti del marito e figli del marito da relazioni extraconugali. Ecco, nella nota vedete l'interpretazione del termine femmina, che vuol dire fides più minus, cioè che è incapace di trattenere la fede. Ecco, questo non è assolutamente vero, perché appunto se guardiamo i numeri delle donne che si consacrano al Signore sono molto di più degli uomini, ecco, quindi casomai è il contrario. Andiamo avanti. Successivamente, nella Francia della rivoluzione francese, le donne presero coscienza della propria subalternità politica e sociale, cercando quindi di emarciparsi oppure di conquistare un ruolo nella società che non fosse quello tradizionale, limitato alla famiglia. Le donne avevano infatti dei diritti molto limitati, le loro paghe erano estremamente basse, non avevano diritto al voto e la loro testimonianza non era ammessa nei processi civili e penali. Per questo la Costituzione francese del 1791, siamo nell'Ottocento ancora, vedete la situazione della donna era ancora molto indietro, anche nel 1800. Ha incontrato l'opposizione di alcune donne colte, ferventi, sostenitrici dell'uguaglianza tra i sessi, guidate da Olympe Gouget, che nel settembre 1791 stese una provocatoria dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina modellata articolo per articolo su quella maschile del 1789, rivendicando per la donna gli stessi diritti e doveri attribuiti tradizionalmente ai maschi. Arrivò, nell'articolo 16, a mettere perfino in dubbio la valità della nuova Costituzione, poiché infatti le donne non avevano propri rappresentanti nell'Assemblea Costituente. Si poteva affermare che la legge fondamentale da essa approvato non era stata predisposta con la cooperazione della maggioranza della nazione francese. I rivoluzionari, tuttavia, accolsero con ostilità queste rivendicazioni, la Gouget fu vigliottinata nel 1793 per aver dimenticato la virtù che convengono al suo sesso. Ecco, poi alla fine dell'Ottocento alle donne fu parzialmente concessa la possibilità dell'istruzione e nel primo novecento in Inghilterra nacque il movimento delle suffragette che rivendicavano anche per le donne il diritto al voto. In Italia la storia per ottenere il suffragio femminile ebbe origine nell'Ottocento ed ebbe storie diverse secondo che si parli di voto amministrativo o di voto politico. Gli sviluppi furono infatti diversi per poi unificarsi nel 1928. La nazione più in ritardo con il suffragetto femminile sono state lo Yemen, 1970, il Sudafrica, 1979, l'Iraq, 1980 e la Svizzera, 1983. Mentre ancora oggi le donne non votano in Kuwait, in Bahrain e negli Emirati Arabi Uniti. Nel novecento la questione femminile con la relativa lotta contro la discrimazione delle donne è diventata uno dei fenomeni più rilevanti del secolo ed in Italia le tappe principali di questo percorso furono quattro. Nel 1948 la costituzione sancì l'ugosaglianza giuridica di tutti i cittadini, uomini e donne. Nel 70 avvengono introdotto l'istituto del divorzio, ecc. Il terrore tappa per l'emancipazione femminile può essere considerata l'istituzione delle pari opportunità, un'apposita commissione parlamentare incaricata di sorvegliare sulle possibili discriminazioni ancora attuate nei confronti delle lavoratrici di favorire e tutelare l'ingresso delle donne nella società e nel mondo del lavoro e di garantire parità di trattamento per uomini e donne. Adesso facciamo un salto indietro vedere cosa faceva la Torah. Ecco, ci sono dei passaggi che possono essere interpretati in modo diverso ma sicuramente si trattava di leggi che custodivano la donna. Anche se la Torah, come abbiamo visto anche in altri casi, non arriva al punto finale. Ci vuole solo il Vangelo e la nuova economia. Ecco, per arrivare, come vedremo, fino alla fine, verso la fine, appunto, come il Nuovo Testamento mette le cose a posto, finalmente. Ecco, la Torah ci rivela fin dai primi capitoli che uomo e donna sono esseri di pari dignità, seppure con diverse qualità e attitudini. Secondo il raccolto biblico della creazione, Dio crea la donna per dare all'uomo un interlocutore e un aiuto pare a lui. Dice infatti, Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e tutte le veste selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Ecco, qui c'è una prima norma che fa vedere che, appunto, c'è una differenza tra il mondo animale e invece il mondo umano. Ecco, quindi, qui Adamo non trova, appunto, un aiuto negli animali. Certo, ci sono gli animali doni maestici, ma non era al suo livello. Ecco, l'aggettivo è simile, che abbiamo visto qua, è reso nell'antichissima versione dei settanti, dei settanta anziani, con termine che definisce l'ugualianza di due elementi dello stesso tipo e valore. Omios è uguale, pari. Ecco, vedete, qui siamo nel primo libro della Genesi, siamo ancora nella Genesi. Quindi, vuol dire che all'inizio Dio aveva creato l'uomo come pari l'uno con l'altro. Poi, invece, passano molti secoli e vediamo gli altri libri della Torah, dove invece, appunto, a motivo del paganesimo, la donna rimane in seconda battuta, ecco, inferiore all'uomo. Però, fin dall'inizio, vedete anche qui questi questi rabbini che avevano tradotto dall'ebraico la settanta, invece pensavano che, appunto, la formula ebraica che vedremo voleva dire uguale e voleva dire P pari all'altro, la donna. Ecco, ciò sembrerebbe confermare che anche il giudaismo precristiano, o perlomeno il traduttore, considerava l'espressione ebraica che neghe Do come di fronte a Lui. In questo senso, cioè, mancava nella creazione un essere di pari dignità all'uomo che gli fosse d'aiuto. La stessa espressione come di fronte a Lui, in ebraico, è usata poco prima, ma viene sempre reso in modo più letterale nel greco dei settanti, dei settanta. Allora, Dio dice, il Signore Dio disse non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Anche qui c'è, appunto, il termine simile che abbiamo visto sopra. Ecco, la formula ebraica c'è solo qua due volte in tutta la Bibbia, come di fronte a Lui. vuol dire di fronte indica l'interlocutore per eccellenza dell'uomo. Il soggetto è descritto infatti come componente speculare dell'altro. La formula ebraica, poi, è estremamente rara. Distingue il rapporto tra l'uomo e la donna rispetto a tutti gli altri e si trova solo qui in tutta la Bibbia. Le parole di Adamo confermano questa lettura. Adesso vediamo cosa dice Adamo dopo la creazione della donna. Allora, l'uomo disse questa volta è carne della mia carne, è osso della mia ossa. Delle mie ossa. Ecco, allora vedete che qui è proprio l'uomo che prima del peccato originale capisce che Dio gli ha dato un interlocutore più grande che non gli animali, ma un interlocutore che è pare proprio appunto abbiamo detto speculare, vuol dire che quando ci guardiamo allo specchio vediamo una persona con cui ci possiamo confrontare, con gli altri no. Ecco, la donna come si è detto rappresenta l'interlocutore più proprio all'uomo a motivo della diversità e della funzionalità reciproca dei due nel mistero della loro unione che Dio subito dopo istituisce. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Ecco, questo è molto interessante perché il padre e la madre rimangono tutto padre e madre rimangono per sempre però vedete che quando l'uomo appunto si sposa prende la moglie vengono abbandonati il padre e la madre allora vedete che Dio implicitamente ci dice che c'è stata una cosa nuova tutta nuova che è la creazione appunto della donna il cui la relazione è più grande e più importante di quella col padre e della madre ecco a livello antropologico la diversità della donna rispetto all'uomo consiste nella presenza in lei degli organi della generazione e questa diversità ne determina il nome imposto da Adano questo nome Eva Hawa in ebraico deriva dalla radice ebraica che definisce la nozione di vita esistenza nel suo significato naturale ma definisce anche la missione della donna si ha perciò Adam dal termine ebraico Adama che vuol dire terra e Hawa come che lei che ha in sé la capacità di trasmettere la vita quando Dio impone un nome affida anche una missione o un incarico come come è dato ad Abramo non ti chiamerai più Abram ma ti chiamerai Avraham perché padre di una moltitudine di popoli ti renderò come per il caso del matrimonio la Torah si rivela fin dal principio l'intenzione originaria di Dio ma la legge data successivamente da Mosè deve percorrere un certo cammino ecco l'ho detto anche prima perché appunto dopo 400 anni di schiavitù il popolo di Israele aveva assorbito appunto tutti il tutta la mentalità degli iniziani dove invece la donna era proprio sottomessa ecco come sappiamo in tutto il mondo pagano partendo da una situazione sociale di notevole svantaggio della donna rispetto all'uomo e qui ci sono comunque abbiamo visto che all'inizio della creazione Dio non fa nessuna differenza ecco nei primi passaggi della della Genesi ecco siamo all'inizio della dell'umanità e dopo cosa è successo col peccato appunto essendo la donna il soggetto debole viene appunto oppressa per la sua delicatezza per la sua per il suo appunto il suo corpo che è più 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 debole di quello dell'uomo ecco è molto banale però siamo fatti così ecco non ci riusciamo a correggere su questa cosa anche fino a oggi però purtroppo l'uomo è fatto così ecco ecco allora vediamo che c'erano alcune c'era ad esempio la Tautorà deve ripartire da zero però ci sono appunto nel caso di Ripudio dice quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito se poi avviene che essa non trovi grazie ai suoi occhi perché egli ha trovato in lei qualcosa di vergognoso scriva per lei un libello di Ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via di casa ecco c'era la possibilità solo del marito data al marito questa possibilità di appunto di mandare via la moglie di Ripudiarla ecco però rispetto al paganesimo c'era una clausola c'era un livello del Ripudio con quello un certificato praticamente dove la donna se lo mostrava poteva risposarsi e avere una famiglia ecco nel nel paganesimo la donna Ripudiata che era stata cacciata via di casa poteva fare solo la prostituta ecco se era poi anziana ancora peggio ecco rimaneva proprio da sola e poteva fare solo la mendicante ecco questo passaggio che abbiamo letto del Deuteronomio ha sempre scandalizzato tanti ancora oggi ma però vediamo che con il livello se noi guardiamo appunto quello che ci interessa di più il suo strato umano e sociale vediamo che è una protezione per la donna certo rimane la possibilità del marito di cacciarla via ma però c'era anche una protezione per la quale la donna poteva rifarsi una vita nel paganesimo questo non c'era ecco poi c'era un'altra legge che anche questa è una legge che ha fatto inorridire tanti ma perché non è stata capita c'è questa norma sempre del deutorenomio che dice quando i fratelli abiteranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare figli la moglie del defunto non si mariterà fuori con un forestiero il suo cognato verrà da lei e se la prenderà in moglie compiendo così verso di lei il dovere del cognato il primo genito che era che essa metterà al mondo andrà sotto il nome del fratello morto perché il nome di questo non si estingua in Israele ecco allora vedete che qui se un marito muore e lascia la moglie senza figli voleva dire che la donna non era più la sussistenza ecco non c'era come i nostri tempi la la possibilità di avere la pensione ecco non c'era allora rimaneva da sola e senza figli e quindi senza sostentamento e allora c'era questa questa regola che lo cognato doveva prendere non una donna fuori dal casato ma una donna che appunto era rimasta da sola senza figli e doveva sposarla ecco quindi questo lo vediamo anche prima della Torah se voi leggete la storia di Tamar e di Giuda c'era già questa quindi è una è una norma che viene appunto dalla notte dei Tenchi che appunto sappiamo che Dio quando scrive la Torah ecco non non entra ecco a gamba tesa ma cerca di rimanere nella mentalità della della tribù ecco cioè del sistema tribale ecco e questo rimane appunto però era una cosa che proteggeva anche in questo caso la donna che era rimasta senza sussistenza ecco molti inarridiscono è chiaro che se queste norme le confrontiano con il nostro substrato sociale fai non ridire però allora erano le conseguenze le conseguenze le era il modo di fare dei popoli anche prima della redazione della Torah e poi viene ripristinato questa norma che era una 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 legge tribale non scritta però che tutti appunto la seguivano perché era appunto come abbiamo detto un un rifugio e una protezione per la donna che non aveva più figli ecco poi c'è un'altra norma dove adesso leggiamo solo un pezzetto che se il cognato non voleva prenderla era denigrato da tutti era una cosa che non si faceva ecco una cosa abominevole quindi la donna lo poteva portare davanti alla alla porta della città dove c'erano tutti gli anziani le persone più in vista e gli toglierà il sandalo dal piede dice la norma gli sputerà in faccia e prendendo la parola dirà così sarà fatto all'uomo che non vuole ricostruire la famiglia del fratello la famiglia di lui sarà chiamata in Israele la famiglia dello scalzato ecco vedete quindi è evidente che l'interesse della Torah mira a proteggere il diritto della donna rimasta priva di figli cioè della possibilità della possibilità di sostentamento in caso di rifiuto perciò è il cognato che procura non solo a se stesso ma a tutta la sua famiglia un nome ignobile davanti a tutta la comunità riunita ecco vedete quindi era un anore in più per che questa invece vi c'è solo nella Torah dove appunto chi non abempiva a questa norma di prendere la moglie senza figli era diventava lui e la sua famiglia la famiglia dello scalzato cioè nel mondo primale era un casato malfamato diventava non si è mai detto nella società antica che una donna potesse sputare in faccia un uomo davanti al consesso degli anziani e levargli il sandalo da ciò si ricava con quale forza la Torah tenda a ristabilire un'esistenza dignitosa non solo per la vedova ma per quanti sono stati maggiormente colpiti o danneggiati a livello sociale e in questo senso stupisce ancora la Torah che ha una speciale attenzione anche per le donne catturate come bottino di guerra nel mondo pagano destinate nel migliore dei casi a divenire schiave o concubine e dice se andrai in guerra contro i tuoi nemici il Signore tuo Dio te li avrà messi nelle mani e tu avrai fatto prigionieri se vedrai tra i prigionieri una donna bella d'aspetto e ti sentirai legato a lei tanto da volerla prendere in moglie te la condurrai a casa essa si radirà il capo si taglierà le unghie si leverà la veste che portava quando fu presa dimorerà in casa sua e piangerà suo padre e sua madre per un mese intero dopo potrai accostarti a lei e comportarti da marito verso di lei e sarà tua moglie se in seguito non ti sentissi più di amarla la lascerai andare a tuo piacere ma non potrai assolutamente venderla per denaro né trattarla come una schiava per il fatto che tu l'hai desonorata qui la donna è presa in guerra come bottino che è una donna pagana però se la vuoi la devi sposare la donna che veniva sposata da questo uomo doveva avere tutti i resecuiti appunto di una donna sposata e non di una schiava o di una concubina vedete anche qui c'è una pretensione per una donna presa in bottina di guerra l'uomo si è innamorato e e la vuole prendere come moglie però appunto non può tenerla come una schiava infatti poi si vede subito dopo perché il capo rasato e le unghie tagliate erano segni di dutto che rendevano la donna meno attraente anche la veste elegante che l'aveva resa apprezzabile veniva tolta l'attesa di un mese intero in questo stato significata in questo stato significata il rispetto era un periodo di tempo che serviva per conoscere la persona non solo l'attraente involucro corporeo e lasciarle il tempo di adeguarsi alla nuova situazione familiare dopo aver essere stata costretta ad abbandonare la propria famiglia la donna veniva poi inserita nella società allo stato di moglie a tutti gli effetti e il marito non poteva trattarla come schiava nemmeno in caso di ripudio ecco poi ce n'è un'altra ancora molto interessante sempre guardando la il substrato sociale degli antichi c'era in un casato è un episodio che è avvenuto davvero cioè c'erano queste donne che erano rimaste tutte queste sorelle che erano rimaste tutte senza marito e chiedono a Mosè di avere appunto la il possedimento che avevano i loro mariti cioè l'eredità volevano e questo non si dava nell'antichità l'eredità era data solo al figlio maschio maggiore e si divideva con gli altri ecco ma invece alle donne mai non è mai successo invece Mosè porta la loro causa davanti al Signore e Dio risponde sì le figlie di Zelofkada dicono bene e poi gli dà l'eredità ecco questa è una cosa proprio assurda pensando a quel tempo ecco vedete la Torah non arriva fino al punto decisivo della parità ci arriva però all'inizio della storia umana come abbiamo visto poi c'è tutto questo rincorrere appunto i precetti più antichi che ci vogliono dei secoli in questo caso siccome vedrete si deve arrivare fino al Nuovo Testamento per avere le cose messe tutte a posto e per quello che poi alla fine della rivelazione finisse proprio con il Nuovo Testamento dove appunto si sono messe a posto tutte le norme antichissime dell'inizio della creazione e quindi vedete questo rincorrere tutte le norme che Dio aveva dato all'inizio dove non c'era il peccato e dove non c'era appunto la sopraffazione e quindi vediamo che la Torah non aggiunge all'obiettivo finale al ristabilimento dell'idea originaria di Dio cosa diceva Dio nella Genesi al capitolo secondo per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne ecco vedo qui è inevocabile qui si dice che i due sono simili sono uguali davanti a Dio ecco qui siamo all'inizio della creazione ecco per concludere si può dire che attraverso il racconto della creazione si ricava il principio di assoluta uguaglianza e dignità della donna rispetto all'uomo mentre nel Nuovo Testamento Gesù abolisce definitivamente il ripudio della donna e riporta alla donna la sua dignità secondo l'intenzione primaria di Dio ecco e qui abbiamo il passaggio del Vangelo di Marco dove c'è un caso di ripudio che Gesù incontra Gesù gli dice che cosa vi ha ordinato Mosè dissero Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla ecco vedi che loro si fanno alla Torah Gesù disse loro per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma ma all'inizio della creazione come abbiamo detto noi Dio li creò maschio e femmina per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola sicché non sono più due ma una sola carne l'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto ecco rientrati in casa sentite la risposta dei discepoli i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento ed egli disse chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro commette adulterio ecco l'adulterio era considerato solo se era era stato fatto dalla donna invece qua Gesù mette tutto a posto no no l'adulterio è anche quando l'uomo ecco fa adulterio ecco commette adulterio ecco vedete che qui Gesù si rifà ai testi che abbiamo visto precedentemente specialmente quelli della dei primi capitoli della Bibbia ecco poi concludiamo perché abbiamo compiuto però appunto abbiamo visto Gesù che rimette le cose a posto e poi c'è la lettera ai Galacti dove appunto gli apostoli guardando le cose che faceva Gesù i suoi atti e anche le parole San Paolo mette la norma definitiva che mette a posto tutto dice non c'è non c'è più non c'è più giudeo né greco non c'è più schiavo più libero non c'è più uomo né donna poiché tutti voi siete uno solo in Cristo e se appartenete a Cristo allora siete discendenza di Abramo e eredi secondo la promessa vedete qui sono tolte questi termini tolgono tutte le differenze ecco il giudeo e il greco cioè l'ebreo e il pagano non ci sono più non c'è più lo schiavo non c'è più il libero non c'è più donna né uomo ecco non ci sono differenze ecco si arriva a questo punto con San Paolo duemila anni fa ecco e noi ci siamo arrivati nelle leggi più antiche della parità della donna sono quelle sono nel 1800 ecco ecco a me mi fa ridere perché ecco si denigra la Bibbia ma nella Bibbia c'è tutto e nella Bibbia c'è l'uguaglianza e c'è l'amore ecco e ci sono tutte le norme che noi dobbiamo seguire ecco perché la Bibbia è Dio che parla e sapeva bene che cosa faceva fin dal principio passe bene a tutti e buona giornata ecco a tutti grazie a tutti a tutti Grazie.